Si terrà domani sera presso l'Acquario di Genova la Charity Dinner delle Stelle, uno degli eventi ormai tradizionali del progetto Stelle nello Sport, ideato vent'anni fa per promuovere la cultura e i valori dello sport in Liguria. La serata radunerà all'Acquario tanti campioni di diverse discipline, che al fianco di autorità, imprenditori e dirigenti sportivi, testimonieranno il sostegno alla Gigi Ghirotti Onlus. Lo scopo è quello di celebrare e sostenere le realtà sportive Liguri e promuovere i valori dello sport ai giovani. Parteciperanno alla serata i genovani Kwame, Radovanovic e Zucanovic e i blucerchiati Ramirez e Audero, accompagnati da Angelo Palombo. In campo anche la Virtus Sentella e lo Spezia Calcio. Presenti poi campioni della scherma, nuoto e atleti paralimpici. E ancora Vanni Oddera, campione di freestyle motocross, Alexei Kolesnikovic, campione russo di FMX e Ilariana F, fresca di impresa mondiale, con un salto in carrozzina sulla neve e molti altri. Un'occasione speciale per festeggiare i 20 anni di Stelle nello Sport, sottolinea Michele Corti, ideatore di Stelle nello Sport. E dopo i 41.000 euro raccolti per le realtà colpite dal crollo di Ponte Morandi, l'obiettivo è ora superare i 30.000 euro di donazione alla Ghirotti.